Non abbandonarci alla tentazione, comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista della tentazione che incombono sul cammino dell'uomo. Non dimentichiamo Padre, Padre nostro incomincia a Padre, e un Padre non fa dei trannelli ai figli, è con noi quando ci dà la vita, è con noi durante la vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, ma sempre con noi, perché Padre non può abbandonarsi. Padre, allontana dunque da noi, oh Dio, il tempo della prova e della tentazione, ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci che non siamo soli, tu sei Padre.